Kiru è una storia che desideravo raccontare da molti anni. È la storia di una relazione ambigua, ma indefinibile, tra un ragazzo di 18 anni, che si chiama Kiru, e una donna di 38, che si chiama Eleonora. Questi 20 anni di differenza creano un vuoto, un abisso che socialmente è incolmabile, se non attraverso una funzione. Un ragazzo di 18 anni oggi può frequentare una persona adulta solamente se quella persona adulta ha un ruolo da svolgere nei suoi confronti. Può essere un genitore, può essere un professore, può essere un istruttore di qualche materia che non si insegna a scuola, ma nessun 16 anni, 17 anni, 18 anni, frequenta amici adulti. Non si usa più che i giovani abbiano amici adulti. E questo vuol dire che tutto il confronto col mondo adulto è funzionale. Questi due abbattono questa barriera. Il ragazzo chiede a questa donna, che per lui non è niente, che lui ha visto in pubblico recitare, perché fa l'attrice, le chiede di guidarlo. Assumiti il compito di farmi da maestra. E lei, se fosse una persona accorta e immatura, direbbe no, perché questo ci metterà nei guai, perché la tua famiglia non può gradire che una persona che non ha con te nessuna giustificazione di frequentazione possa starti accanto con un ruolo paragenitoriale, allo stesso tempo questi 20 anni che sono enormi per essere amici non sono abbastanza perché qualcuno non pensi che possiamo essere amanti. E quindi tu mi stai ficcando in una situazione difficile e complicata, e io non ci voglio entrare. Ma Eleonora non è una persona matura e quindi gli dice di sì. Da lì comincia una sorta di passeggiata esistenziale dove partono con l'illusione di essere in dislivello. Lei adulta è forte e lui giovane è ancora da definire. In realtà pagina dopo pagina appare sempre più chiaro che dei due quello fragile non è quello che sembra. e non è una storia d'amore in senso proprio, non fanno neanche sesso, fanno qualcosa di peggio però. Cioè affidare la fiducia, affidare le chiavi della propria esistenza a qualcuno che non ha neanche le chiavi della sua. E' un libro che, mentre lo scrivevo, sapevo che andavo a toccare una serie di tabù sociali in Italia. Quello della famiglia come luogo sicuro. Le famiglie di questi due personaggi sono luoghi patogeni, sono luoghi dove ci si può solo fare del male. Andavo a toccare il concetto che di madre ce ne sia una sola. Eleonora per Chiru è anche una figura materna. E lo è nel modo complesso in cui non lo sono le madri di sangue. E poi c'è sicuramente la questione anagrafica appunto. Quanto due persone con così tanta distanza di tempo tra loro possono essere amiche? Quanto possono insegnarsi e quanto possono manipolarsi? Quanto un'alba può affidarsi a un tramonto? L'espressione romanzo di formazione viene spesso usata per questo libro. E' più proprio certamente dire che si tratta di due figure entrambe bisognose di formazione. Ma tutte e due troppo marcate dalle esperienze negative da essere già deformate. Quindi in realtà c'è poco da formare qui. Si tratta solo di salvare il salvabile. E per salvarsi si affidano una all'altra. Ma come due legne alla deriva si affiderebbero uno all'altro. Non mi piacciono gli amori felici. Non mi piacciono le storie costruttive. Perché non sono interessanti. Mi piacciono le persone nei guai. E mi piacciono le storie che sono dei guai. Quindi certamente questa storia qui, se fosse una storia di formazione, sarebbe un romanzo pedagogico. Invece non sono sicura che mi piacerebbe metterlo in mano a qualcuno che ha 17 anni. Potrebbe imparare che nella vita si può considerare un successo anche qualcosa di moralmente deprecabile. Dei miei lettori francesi ho una percezione molto forte grazie al fatto che ho la fortuna di essere scrittrice negli anni 2000. Quindi quando ci sono i social network. Quindi gli lettori francesi, le lettrici francesi mi scrivono su Facebook o su Twitter. Molti su Instagram fotografano i miei libri e poi mi taggano. E ho la possibilità di avere uno scambio diretto. È un sogno che gli scrittori del passato non hanno mai potuto avverare. Io sono grata di vivere in un tempo dove non ci sono salti, non ci sono distanze incolmabili tra chi scrive e chi legge. Grazie Grazie a tutti.